mi sono accorto che non tutti conoscono la storia di colui che parla in questo video e secondo me è giusto sapere sempre con chi si ha a che fare chi parla è giusto che dica che trascorso ha alle spalle io mi occupo di cremonese come tifoso da quando sono nato mai tanti anni fa come stampa scrivo per giornali che si occupano di cremonese dal 2001 e dal 2013 in uno mio quindi sono 22 anni 21 quasi avviciniamo al 22esimo 2023 a seguito della squadra avere tanti anni alle spalle ti aiuta ad avere un po di esperienza che è utile per valutare le cose con distacco e non farsi travolgere dall'emotività quindi voglio iniziare questo video dicendo che la cremonese non è retrocessa il campionato è lungo siamo in una situazione molto difficile e veramente complicata è oggettivo che rischiamo forte ma non è finita è guai a pensare che sia finita fatta questa premessa parliamo di cremonese sampdoria la consideriamo una finale e l'abbiamo persa quindi è veramente una mazzata che ci complica molto la vita per appunto guai a pensare che sia finita abbiamo anche un calendario adesso siamo ultimi abbiamo la peggior difesa facciamo fatica a segnare abbiamo calendario che non è facile juventus milan udinese nelle prossime cinque e salerno italiano di trasferta tutti gli scotteriati in trasferta l'andata che ha fatto il calendario lo so è un programma strozzerà il programma perché è veramente un calendario fatto per farci staccare dopo quando ti fai staccare è difficile avere la forza di rimontare anche moralmente la società ha preso la sua decisione su alvini alvini è stato confermato anche se la società ha detto che sta riflettendo è una posizione che faccio fatica a condividere soprattutto nelle modalità nel senso come sono fatto io ho mandato un attore lo confermi punto dare una fiducia che fai capire che tu stesso non sei troppo convinto rischi di indebolire la sua posizione natore finché c'è deve essere sempre posizione di forza qui o magari non dico che la stanno debba riflettere non avrei detto a rifatto preso una posizione più decisa al suo fianco e se non sei convinta di lui allora cambia piuttosto ma appunto niente e mezzo misure avrei anche preso un'altra decisione se non cambia natore per un segnale lo devi dare più che perché non si era la squadra all'ambiente mandare il tiro magari sarebbe stata una buona cosa che non è che il ritiro in sé cambi le cose non se le mandi all'ambiente poi comunque in passato ci sono state neanche mi ricordo la crisi di rispoli che era un disastro come persona ma mandava giocatore tecnico calcistico non capiva ma andava giocatore di tiro abbiamo vinto tutte le volte che la squadra andava in ritiro perché serviva anche compattare un po' il gruppo a livello di gestione della della partita alvini ha fatto delle scelte che io non non ho condiviso molto soprattutto c'è una questione psicologica lui aveva fatto inizio campionato con la difesa 3 e si vedevano delle problematiche è passato a quattro e la squadra sembrata un po più equilibrata è tornato a tre io faccio fatica a capire questo cambio soprattutto a livello anche psicologico si dirà è vero che abbiamo fatto un gran possesso palle abbiamo messo in difficoltà la sampdoria ma ragazzi la sampdoria ha una situazione economica disastrosa è veramente piena di debiti non si sa nemmeno se finisce il campionato c'è questa situazione i giocatori erano spaventatissimi si vedeva chiaramente questa sampdoria è una squadra che bastava dare una spinta nell'andava giù quindi metterla sotto non ci voleva granché anzi avremmo dovuto fare di più e hanno dovuto avere più occasioni perché aveva fatto tanto possesso palla abbiamo avuto delle occasioni importanti rigore su tutte ma non troppe ne abbiamo avuto 4 5 invece questa sampdoria di massacrare perché è una squadra che ha così paura non devi lasciarle scampo ci siamo fatti da male da soli praticamente permettendole di risuscitare infatti al finale sembra già un'altra squadra sampdoria un po più convinta un po più fiduciosa anche perché stankovic secondo me ha dimostrato una buona capacità di gestione del gruppo almeno a livello psicologico ha provato a cambiare c'è di vincere addirittura quando ha sentito l'odore del sangue diciamo così e poi a rianimare i suoi non è facile la situazione in cui lui quindi già la formazione iniziale non mi convinceva molto poi ha messo in condizione alcuni giocatori di essere non nelle condizioni ideali per giocare nel senso che ai vu tantissime volte aveva la palla in impostazione e finia col voltarsi passando a portiere perché non è il suo fa fatica ser nicola avendo una difesa tra le spalle è molto più trattenuto gioca meglio a quattro e lo stesso discorso dall'altra parte anche per valeri e quindi queste scelte non mi convincono molto molto bene a scassibaro invece tratto anche mite che nelle pagelle ho sbagliato perché le pagelle si sbagliano esattamente come giocatori sbagliano l'ho punito ma no ho torto io le pagelle si fanno a caldo quando si è influenzato anche dall'emotività mi temerita un voto migliore però abbiamo commesso abbiamo un punto un'impostazione di scuola comunque faraginosa questo non toglie che appunto contro una semplodoria così in difficoltà abbiamo avuto le nostre occasioni il rigore pesa tantissimo è inutile negarlo e non ho capito come voleva tirarlo del ser perché di solito o lo piazzi o tiri di potenza di non ha fatto uno nell'altra cosa un po rigore della paura probabilmente non è molto sereno in questo momento infatti ci dedichiamo video a parte perché è un giocatore fondamentale per noi e ha una situazione un po problematica secondo me in questo momento soprattutto a livello psicologico e okere che ha giocato una partita discreta però se desser non gira ci manca chi fa gol perché questo è un altro dei problemi di questa squadra chi è che fa gol abbiamo puntato prete le nostre fish su deser se lui non segna anche il nostro campo di mediani vuol dire anche avere pochi gol infatti abbiamo fatto fatica a costruire occasioni pulite pur avendo sempre la palla mettendo il figlio della sampdoria sempre vicino in corsia ernicola con pickel però stringi stringi non abbastanza per quanto era il nostro dominio e poi la squadra ha cominciato a calare fisicamente si è arretrata in quella fase alvini doveva cambiare e non l'ha fatto invece cambiato la sampdoria finché è arrivato il gol che maturava con aivu che ha sbagliato per due volte ha tenuto in gioco l'attaccante a sampdoria no sia sull'occasione di gabbiadini sia sul gol quindi hai proprio difficoltà e dopo la santoria ha avuto vita facile e i quattro cambi in un colpo solo di alvini sono indice secondo me di disperazione anche di cedimento emotivo solvini io sono abituato a confrontarmi con le persone che il calcio lo fanno perché io credo nelle competenze e mi è capitato di parlare con dirigenti allenatori gente anche quotata e tutti hanno un'ottima opinione di alvini quindi al di là di quello che può pensare a ciascuno di voi io credo a credo loro e poi anche dare un'identità questa squadra non era facile perché qui noi parliamo molto di alvini ma la scuola è stata fatta in fretta e questa non è colpa della società con tanti giocatori stranieri che devi assemblare con tanti giocatori che non ho mai fatto la serie a senza un gruppo base sì ci sono dieci giocatori l'anno scorso però questa anche alvini qualche errore l'ha commesso all'inizio poter dargli più spazio probabilmente della fine sono loro i migliori l'importanza di avere un'ossatura però tutta la squadra era difficile da assemblare lui riuscì da darle un'identità di gioco poi però sta commettendo gli errori che io credo siano frutto dell'inesperienza si è intestardito sulle sue idee anche quando idea che non funzionavano come zanni macchia trequartista e adesso si è ritornato con questa scelta della difesa tre e poi in alcuni casi c'è delle emotività sono cose normali per chi sta sperimentando un mondo nuovo i problemi è che paghiamo il prezzo probabilmente alvini tra qualche anno non farà più questi errori io credo che farà io sono convinto che farà una buona carriera però dobbiamo occuparci dell'ora di quello che dobbiamo fare adesso quindi anche se io sono un sostenitore a pazienza avevo pensato anch'io che forse era il momento di cambiare qualcosa però la società ha deciso di confermarlo e per come la vivo io finché c'è noi il nostro ministro dobbiamo sostenere come ambiente come stampa come tifosi va sempre sostenuta la squadra in ogni momento quindi io mi schierò ancora una volta a tifo di fare il tifoso perché io spero di poter scrivere calvini azzecca tutte le scelte la camisa con una grande partita con l'udinese lo spero di cuore non sarà una partita facile vista anche la forza dell'udinese deve però cambiare qualcosa abbiamo visto che ci sono delle cose che non funzionano e su queste cose che non funzionano io direi che la principale è riuscire a fare gol e per fare gol bisogna capirsi anche un po bene de ser sta facendo fatica è un unico giocatore del gruppo possiamo puntare va servito forse in un modo diverso quindi bisogna pensare alle soluzioni informazione io vista anche la mancanza di alternative perché la squadra delle lacune buon aiuto l'unico giocatore che ha un po di qualità io non so se in serie a riesce davvero a fare la differenza perché quando ha giocato ho fatto dire che il suo passo è più da e più da b perché in a tutto scorre più veloce però al di là del del discorso a parte che alcuni giocatori come valieri sernico dalla prima giornata in poi hanno cominciato in un modo e sono già cresciuti tantissimo quindi anche buon aiuto potrebbe far fatica aver fatto fatica all'inizio e poi dimostrare di saperci stare dentro alla grande perché si cresce giocando ma al di là di tutto non è alternative metti in campo con la poca qualità che hai visto che abbiamo tanti giocatori di quantità e poche di qualità quindi io l'ho remesso in questa partita e adesso vedremo cosa farà con l'udinese ma in generale deve cercare di costruire una formazione che dia un po più di certezza alla squadra e con un po più di qualità le scelte le fa mister io non sono fatto sicuro suggerimenti però qualcosa deve cambiare rispetto a quanto visto con la sampdoria perché vedete tutte le volte tu giochi bene ma poi perdi non è un caso vuol dire che manca qualcosa e quindi devi cambiare qualcosa e con questo vi saluto